Oggi novità, omino bianco detersivo Marsiglia profumo muschio bianco Alan e Charlie, uno con un tesoro da trovare Ci vorremmo una barca L'altro con una traversata da affrontare Sorpresa! Il loro destino stavano per incontrarsi O forse, è meglio dire, scontrarsi Io ti butto a mare! Troviamo un accomodamento! Bud Spencer, Terence, ora che il gioco si fa duro Meglio amici che nemici Perché si sa, chi trova un amico, trova un tesoro Domani alle 20.45 su Rete4 Con Wind ti conviene rispondere Perché la tua prepagata si ricarica ogni telefonata che ricevi sul cellulare Da qualsiasi telefono arrivi E scopri subito quanto hai guadagnato Wind, ti conviene rispondere Che bello! Dai, fermi qui Non ci credo Qui dietro C'è sempre qualcosa dietro Abbiamo un filosofo fra noi Cioccolato? Buonissimo Ma chissà cosa c'è dietro Dietro? Ci sono i cereali Si vede Quattro cereali Un mare di latte Buon cioccolato Kinder cereali è semplice Come lo vedi? Ma come fanno? Li attaccano? Sempre Uno per uno Ah però Kinder cereali è semplice Come lo vedi? La prossima generazione merita un mondo dove l'acqua è più pura Un mondo dove le macchine e l'uomo potranno capirsi È il futuro che immaginiamo Perché aspettare? Uva Generation of Future Una penna speciale per firmare il tuo primo libro 80 euro al mese con Mastercard Un vestito per l'occasione 80 euro al mese con Mastercard Il computer su cui hai passato mille nottate Sempre 80 euro al mese con Mastercard Regalare una copia A chi ti consigliava di lasciar perdere Non ha prezzo Ci sono cose che non si possono comprare Per tutto il resto c'è Mastercard Per comprare quello che vuoi e pagare a piccole dosi Polenta Valsugana È necessaria la prescrizione medica leggere il foglio illustrativo E adesso un ultimo Mon Cherie Anzi proprio l'ultimo E chi si merita questa meraviglia di cioccolato con dentro il liquore? E la ciliegia freschissima E la ciliegia freschissima E gli riperesti l'ultimo Mon Cherie? Sì Scusate le chiavi Questo sono sul letto Mio Ciao Ciao No Mon Cherie Troppo buoni per restare senza San Benedetto frizzante Ha la giusta dose di frizzanti allegre e bollicine Che favoriscono la digestione Salute San Benedetto frizzante Bere Gustare Digerire Ti puoi fidare dei prodotti Fiorucci Sono certificati Fiorucci La garanzia È la nostra prima qualità Cos'è nato storto questa volta? Il detergente Il brillantante Il sale Oggi c'è Finish Powerball 3 in 1 Tutto in una sola pastiglia E tecnologia Powerball Basta Farsi in 3 Affidati a lui E non pensarci più Finish Powerball 3 in 1 Tutto per il pulito insuperabile Cartellino Magia leggera di vino Guarda che crema Che caffè Senti che roba Che dire di più Si dice Kimbo E si offre Appunto È quello che stiamo facendo Kimbo Il caffè Di chiama il caffè Non ci metto l'olio Frittolosa Non ci metti l'olio Frittolosa Fa tutto da sola Senza olio e senza sporcare Con frittolosa Patatine tutti i giorni Buonissime E leggerissime Da Termo Z Tutto può succedere a Natale Con Kinder Sorpresa Che da una scatola Nasca un albero magnifico E le sorprese diventino decori Che il novetto diventa Una magica palla di Natale Con enormi sorprese Kinder Sorpresa Che sorpresa Quest'anno il Natale Che ha detto Ma non sento Non parli Con broadband box Mio zio non è più lo stesso E con le immagini fluide Della webcam È anche più bello Lando Il prossimo Sei tu L'amore diventa guerra Un uomo diventa leggenda Un plebeo William Wallace Non è neppure cavaliere La storia diventa grande cinema Con Mel Gibson E Sophie Marceau Braveheart Cuore impavido Venerdì alle 21 su Italia 1 Al mattino sereno al nord ovest Ma congelate Qualche nebbia in pianura Nubi sul resto d'Italia Piogge su Abruzzo, Molise, Campania, Gargano, Cosentino E ovest Sicilia Qualche temporale sulle coste campane Al pomeriggio schiarite su quasi tutto il centro nord Piogge e rovesci al sud Venti di maestrale su mari di Corsica Di Sardegna Medio basso terreno E Sicilia Temperature massime in rialzo al nord Dati servizio meteo aeronautica Elaborazioni e grafica Epson Oggi novità Omino bianco detersivo Marsiglia Profumo muschio bianco Albano Una voce nel sole Una trasmissione di successo Con i suoi quattro appuntamenti Ci ha regalato grandi emozioni Su rete 4 Potrete rivederne il meglio Con le più belle canzoni di Albano E dei suoi grandi ospiti Con la loro voglia di raccontarsi E di divertire Albano Una voce nel sole Giovedì alle 20 e 45 Su rete 4 Un appuntamento che non bisogna vendere Ciao Da quando ho entrato in casa Il sistema pronto Tutto è più facile per la mia padrona E niente più vita da cami Il panno cattura polvere Attira la polvere E anche i miei peli Come una galavita E da oggi c'è anche pronto wet Il primo panno detergente Per il sistema pronto E lo sporco È raccolto Pronto Veloci Puliti E contenti D'accordo Io lo so che quando ti parlo Tu ti scaldi Ma quella roba lì Scotta L'unico modo è starne lontano Lo capisci Mi ascolti quando parlo? Amico Billy L'unico auricolare antiradiazioni Per il telefonino Lo trovi da Euronics Nei migliori negozi Excuse me What time is it? B&G Time Quando sarò grande Voglio la macchina di papà Farò girare la testa A tutte le ragazze E finalmente Potrò portare in giro la mia Ma dovrò mettere su famiglia Beh Pur di guidarla Per Natale I concessionari Kia Ti regalano 3 milioni 800 mila lire di sconto Così Kia Rio Sarà tua da 17 milioni 800 mila lire Non ha mai fatto male Tre pette di salame Levoni Diremo su Tevele che Levoni Salame ungherese Non ha mai fatto male Tre pette di salame Vabbè ma Ciao Non ha mai fatto male Salve Non hai un tetto fatale Di tetto fetto salame Porta l'ungherese di Levoni Levoni manda il mare Forza ne parecchio Però eh Levoni Fanno bene i salumi Gira 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 Sì friggi meglio De lunghi È l'unica friggitrice Con il cestello che gira E gira per friggere Le patatine croccanti Più leggere del mondo Perché solo con il cestello Che gira Le patatine entrano Ed entrano dall'olio Croccanti E puoi friggere E puoi friggere tutto Quello che vuoi Con friggi meglio De lunghi Perché gira Gira Perché pagare il doppio? Con Infostrada le interurbane costano 210 lire al minuto Con Tele2 solo 88 lire Abbonati al 1922 Vecchia Romagna Intense emozioni È difficile per un olio extravergine Trovare l'equilibrio Di un sapore Intenso e insieme delicato Quando un extravergine è così C'è la mano di Monini Extravergine Monini La tua spremuta di olive C'è un lato ultradolce in tutti noi Contro la forfora persistente Nuovo Garnier ultradolce Il potere calmante del timo E la purezza dell'eucalipto blu In uno shampoo per eliminare la forfora alla radice Garnier ultradolce L'antiforfora al timo ed eucalipto blu La tosse grassa si sconquassa L'isomucil mucolitico sciroppo per adulti Scioglie la tosse grassa La doppia azione del suo principio attivo Rende più fluide le secrezioni bronchiali E permette una più facile spettorazione L'isomucil Un respiro di salute È un medicinale Leggere attentamente il foglio illustrativo Evitare l'uso prolungato Se il sintomo persiste Consultare il medico E non mi illumino Mi agito Quando non ci sei Ma tu non devi in niente Golden Lady I'm lost Without you Golden Lady Grande amica Conad signore Fanno gli abituali controlli di biliera Sanitari Su mangimi E ora c'è là l'uomo Conad Che mi controlla le mie ragazze Percorso qualità Conad Conad La qualità Lascia il segno Quest'anno dobbiamo crescere di più Il 30% in più In esclusiva Su Rete 4 Il diario di un evento Dietro le quinte del primo Monte Carlo Film Festival La cronaca del nuovo prestigioso appuntamento cinematografico internazionale Dedicato alla commedia e ai suoi protagonisti Le rassegne, le anteprime, i personaggi Con la complicità di Ezio Greggio Commedia che passa Passione Stasera alle 23.30 Su Rete 4 E' meglio che qualcuno faccia del caffè ragazzi Oggi novità Omino Bianco Detersivo Marsiglia Profumo Muschio Bianco Rete 4 e Intervita dedicano un grande evento televisivo ai bambini del terzo mondo Galà per un sorriso Una serata speciale dedicata alle adozioni a distanza Lunedì 10 dicembre alle 20.45 Su Rete 4 Perché pagare il doppio? Con Telecom Italia Le interurbane oltre 15 km costano 222 lire al minuto Con Tele2, solo 88 lire Abbonati al 19.22 Da quando ho entrato in casa il sistema pronto Tutto è più facile per la mia padrona E niente più vita da cami Il panno cattura polvere, attira la polvere E anche i miei peli come una galavita E da oggi c'è anche pronto wet Il primo panno detergente per il sistema pronto E lo sporco E raccolto Pronto Veloci Puliti E contenti Direttore Entriamo in due Mi sa che dovevo aspettare Adesso non siamo né dentro né fuori Ho un bel euro che non è ancora arrivato ma c'è già Possiamo aggiornarlo? Certo possiamo pagare con il pagopanco La carta di credito e i nuovi assegni di euro Ma esistono già? Certo E gli assegni di lire direttore? No, 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 quelli dopo il primo gennaio non si possono più usare Ma io non sono mica direttore Ma lei se a tutte queste cose non è ancora direttore? Ma sua moglie cosa dice? Niente Certo L'età più bella per godersi la vita La mia Per questo ho scelto Age Perfect Innovazione dei laboratori L'Oreal per le pelli mature Il primo trattamento reidratante anti rilassamento ai dermopeptidi Con l'età la pelle si rilassa I dermopeptidi ridinamizzano le cellule per restringere le maglie della pelle È l'azione anti rilassamento di Age Perfect Intensamente reidratata la mia pelle più morbida, più compatta Non dimostra la sua età Per le pelli mature Age Perfect dell'Oreal Plenitude Perché tu fai Don't tell me That you get sick of living Il Sir San Marzano Borsi Unico da sempre Signora, per colpa del calcare le porto via la lavatrice Ma ha mai usato l'anticalcare? Quello economico E adesso? Sono senza lavatrice E con la cucina allagata Il calcare attacca la lavatrice fin dall'inizio del lavaggio Oggi c'è il nuovo Calfort Gel La sua speciale formula in gel Si dissolve più velocemente degli altri anticalcare Garantendo un'imbattibile protezione alla lavatrice Calfort è l'unico anticalcare raccomandato dalle migliori marche di lavatrici La lavatrice vive di più con Calfort Il nuovo aspirapolvere Udini Aspira dove gli altri non arrivano Perché l'esclusiva spazzola passepartout Ha le alette snodate Geniale, no? Ariete, il genio della casa Se dell'Italia amate lo stile e l'eleganza La gente e il suo senso dell'accoglienza I sapori della cucina I piccoli dettagli e le grandi atmosfere Partite con una crociera MSC Il bello dell'Italia viaggerà con voi Sempre MSC, lo stile italiano delle crociere E adesso avrei proprio voglia di... Sai Ho un langurino Tra poco c'è parte Ma non è proprio fame È più voglia di... Voglia di... Ambrogio E ora i suoi ospiti Ambrogio, tu mi dici Proprio come fai con la mamma Che colore indosserà il viso quest'anno? Toni di rilla Ciglia pastello Pelle chiara Labbra rosa naturale Gengive Rosa neoemoforma Neoemoforma Gusto salino Colore rosa Il colore delle gengive sane Oh, oh, ferma! Ma l'ho portato la Fabia! Woo! Vieni a provare la Fabia dai concessionari Skoda! Momenti che vorresti non finissero mai Rewind Tissot One more time Anima vera Gioielli donna oro Chiedi la luna Tu jumpi Ma tutti stanno andando calche Oh, che odore! Ma la mamma ha un nuovo trucco Glad Micro Spray Piccolo, pratico e concentrato Basta un solo trucco E la tua casa resta fresca a lungo E da oggi Puoi applicare alla parete Il nuovo Glad Micro Spray bagno Praticamente geniale Questo fisico americano Si è iniettato nel corpo Una tempesta di radiazioni E ha così potuto dimostrare Che l'uomo della sindone È Gesù Questa ragazza Quando aveva soltanto due anni Era stata colpita Da un tumore All'addome E noi vi racconteremo La sua guarigione Miracolosa Sono il Vescovo Milingo E Padre Amor Possono spiegarvi Le terribili astuzze Del maligno Ed ancora L'ultimo miracolo Di San Gabriele Perché non finirete mai Di stupirvi E crederete solo Ai vostri occhi Miracoli Samato alle 20.35 Su Rete 4 Non scende più È tutta colpa Di fresco blu Oggi novità Omino bianco Detersivo Marsiglia Profumo muschio bianco Alan e Charlie Uno con un tesoro da trovare Ci vorremmo una bar L'altro Con una traversata Da affrontare Sorpresa Il loro destino Stavano per incontrarsi O forse È meglio dire Scontrarsi Io ti butto a mare Troviamo un accomodamento Bud Spencer Terence Ora che il gioco si fa duro Meglio amici Che nemici Perché si sa Chi trova un amico Trova un tesoro Domani alle 20.45 Su Rete 4 Moven 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 Dal primo gennaio Tutti useremo le monete in euro Otto monete Da un centesimo A due euro L'euro La nostra moneta È uscita Is Mania Dance 2002 Con Ricci Marti Paolina Rubio Gigi D'Agostino Alcazar E tantissimi altri E come Volostruck Alla Stacia Is Mania Dance 2002 Ok andiamo? Venite a provarla Presso le concessionarie mini Del gruppo BMW Venite a provarla V66 GPRS Club vacanze Color a la vita La tua azienda fatica ad affrontare il peso delle telecomunicazioni? Per fortuna c'è Albacom Si è fatto i muscoli su ben 100.000 aziende Vuoi che non sappia come darti una mano? Albacom È un luogo che non sappia come entrare il peso delle telecomunicazioni? Fusci attrave il peso delle telecomunicazioni? La tua azienda fatica ad affrontare il peso delle telecomunicazioni? Varia il peso delle telecomunicazioni? Ota la vita Alla vita Alla vita Tre pette di salame, levoni ma... Diremo tutte le vecchette. Levoni, salame ingherese. Non ha mai fatto male tre pette di salame. Ok, va bene. Ciao, non l'ha mai fatto male. Salve. Non hai un tetto fatale, di tetto fetto salame. Porta l'ingherese di levoni. Levoni, manda il mare. Porta le parecchio però, eh. Levoni fanno bene i salumi. La pelle perde tono e consistenza quando perde densità. Nova Dioldi Vichy restituisce densità alla pelle. Kylie Minogue, ai vertici delle classifiche di tutto il mondo. Fever, il nuovo album di Kylie Minogue. Ehi, ciao. 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 Allora, hai trovato quello che cercavi? Sì, adesso mi sento più forte, più forte dentro. E tu? Anch'io. Nuovo Apollo, ti fa sentire più forte. Prenota la tua prova sul sito Volkswagen. D'accordo, io lo so che quando ti parlo tu ti scaldi. Ma quella roba lì, scotta. L'unico modo è starne lontano, lo capisci? Mi ascolti quando parlo? Amico Billy, l'unico auricolare antiradiazioni per il telefonino. Lo trovi da Euronics nei migliori negozi. Vacanze? Vacanze! Tornate a sognare! Oggi potete scegliere la vostra vacanza in tutta tranquillità, perché con Alpitour, anche se l'annullate all'ultimo minuto, avrete rimborso delle spese. Vacanze di Natale Alpitour, liberi di ripartire. La forza di affrontare la maternità. Le emozioni, le preoccupazioni e le gioie di dare la vita ad un essere umano. Io ho aspettato 12 anni e poi ho tentato per il terzo. Volevo un'altra volta la gioia di essere madre. Questa bambina segna sicuramente un rapporto più stabile, più bello. Cristina Parodi presenta La Forza della Vita. Mercoledì 5 dicembre alle 20.45 su Rete4. Questo programma è stato presentato da Banca Mediolanum e da Rio Casamia. Oggi novità, omino bianco detersivo marsiglia profumo muschio bianco. In esclusiva, su Rete4, il diario di un evento. Dietro le quinte del primo Monte Carlo Film Festival. La cronaca del nuovo prestigioso appuntamento cinematografico internazionale dedicato alla commedia e ai suoi protagonisti. Le rassegne, le anteprime, i personaggi. Con la complicità di Ezio Greggio, commedia che passione. Tra poco, su Rete4. Devo fare pipì. Ti puoi fermare. Venite a provarla presso le concessionarie mini del gruppo BMW. Che ha detto? Ma non sento. Non parli. Con Broadband Box mio zio non è più lo stesso. E con le immagini fluide della webcam è anche più bello. Lando, il prossimo sei tu! Lando, il prossimo sei tu! Lando, il prossimo sei tu! Qualunque cosa ci riservi il futuro, nel futuro c'è Visa. La pelle perde tono e consistenza quando perde densità. Nova Diol di Vichy restituisce densità alla pelle. Oh, mi sono fatto tutte le piste olimpiche in anteprima. Sestrier, Bardonecchia, Sause d'Ulsk. Fra gelato, San Sicario. San Sicario. Ma devi vedere che è neve, pare... E' farina, è una cosa incredibile. Un velluto. Bellissimo. Il mio nome è Bert e mi occupo di condimenti. Tra primi e secondi ho risolto più di mille casi. Sono qui per l'agnello. Era tutto in ordine. Tino, Perciofi, mancava solo... Cosa? Il dettaglio fondamentale. L'agnello ama i sapori corposi. Facciamolo felice. Sposiamolo con Bertolli Robusto. Non rimane con noi. La ringraziai, ma il caso Gamberoni mi stava aspettando. Bertolli Robusto. Mai più un piatto piatto. Come sarebbe il mondo se tutto fosse forte e resistente come una Hyundai? Mono scocca ad alta resistenza. Questo rende ogni Hyundai forte, affidabile, come la nuova Santa Fe. Preparati a volerne una. 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 Grazie a tutti. La pelle perde tono e consistenza quando perde densità. Nova Diol di Vichy restituisce densità alla pelle. Peugeot 307 Esprit Libre, auto dell'anno 2002. Ricaricati con pieno Wind e se attivi Noi Wind, quanto spendi da casa lo ricarichi sul telefonino. Wind, ti conviene rispondere. Una penna speciale per firmare il tuo primo libro, 80 euro al mese con Mastercard. Un vestito per l'occasione, 80 euro al mese con Mastercard. Il computer su cui hai passato mille nottate, sempre 80 euro al mese con Mastercard. Regalare una copia a chi ti consigliava di lasciar perdere non ha prezzo. Ci sono cose che non si possono comprare, per tutto il resto c'è Mastercard. Per comprare quello che vuoi e pagare a piccole dosi. Averna, il gusto pieno della vita. Questo non è un festival, è un'ammocchiata! Scandalo al festival. Con le più grandi vendette della musica leggera. Tutto quello che non dovreste sapere sul festival. Stop! Stop! Oh, è data la chiamata. Pippo Franco, Pamela Pratti, Leo Gullotta, Valeria Marini in un film di Pier Francesco Pingitore. Gole Ruggetti, domani alle 22.45 su Rete4. Quanto, sole di mezzanotte. Oggi, novità. Omino bianco, detersivo Marsiglia, profumo muschio bianco. Alan e Charlie. Uno con un tesoro da trovare. Ci vorrebbe una barca. L'altro con una traversata da affrontare. Sorpresa! Loro destino stavano per incontrarsi. O forse... E' meglio dire, scontrarsi. E io ti butto a mare. Troviamo un accomodamento! Bud Spencer, Terence C. Ora che il gioco si fa duro, meglio amici che nemici. Perché si sa, chi trova un amico, trova un tesoro. Domani alle 20.45 su Rete4. Move, 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 move. Oggi possiamo arrivare dove vogliamo. Cavalli in H7. Un tanto vado a fare un po' di tè. Anche l'intelligenza è una bella forma di energia. Enel. Reti, energie e valori. Le più belle canzoni di Sting dei Police, reinventate in un album semplicemente straordinario. Sting, all this time, imperdibile. Quando scattano le opportunità, è tempo di muoversi. È tempo di Ecotime. Le imperdibili offerte dei concessionari Opel. Ecotime, offerte da non far scappare. Sorrisi e in tavola presentano i sapori della cucina regionale italiana. I secondi piatti. Sai volumi in un'opera unica da collezione, dedicata alla grande tradizione della cucina regionale italiana. Da questa settimana con Sorrisi, il primo volume è il copamento in regalo. Da medio banca e da medio lanum, il private banking. Banca e specie, oltre la gestione. La tua azienda vuole fare un salto di qualità nelle telecomunicazioni? Albacom, gli specialisti per le telecomunicazioni di impresa. L'evento discografico del nuovo millennio. La pelle perde tono e consistenza quando perde densità. Nova Diol di DC restituisce densità alla pelle. Efficace contro la placca, delicato sulle gengive. Nuovo spazzolino elettrico Mentadent Integral. Pratico ed efficace. Prova la differenza. Peugeot 307 Esprit Libre, auto dell'anno 2002. Se sei capace di commuoverti ascoltando una canzone. Luca, il nuovo disco di Luca Carboni. Scrivi una lettera per me, così puoi sempre la leggerò. Carcolino! Che ci hanno fatto? Carcolino! Venere, cosa c'hai qua? Carcolino! Le prese da maciste? Ma dai che ci penso io a tirarti su con gli spinaci filanti di quattro salti in padella. Spinaci, mozzarella filante, una bontà sublime, bestia. Giove, i tuoi spinaci sono una forza! Lo so, cucito da Dio. Quattro salti in padella a Fildos. I piatti che sono diventati un mito. 34 e Intervita dedicano un grande evento televisivo ai bambini del terzo mondo. Galà per un sorriso. Una serata speciale dedicata alle adozioni a distanza. Lunedì 10 dicembre alle 20.45. Subbite 4.